ciao ragazzi. io sono Riccardo. bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio. ditemi la verità. quante volte avete avuto necessità di mettere dei tasselli nel cartongesso e non vi è riuscito. o se vi è riuscito, poco dopo è iniziato a muoversi. perché avete usato tasselli come questi? non vanno bene. oggi vi faccio vedere qual è il tassello corretto per il cartongesso, come si applica e quali sono i benefici. iniziamo. prima di iniziare vi annuncio che farò altri video riguardanti cartongesso, perché in questi giorni, poco dopo la zona rossa che per ora c'è in sicilia, dovrò fare del lavoro nello studio per dividere degli spazi nella mia attività. vediamo ora questi tasselli. allora questo è un classico tassello per muro. questo invece è un tassello per cartongesso. quali sono le differenze? allora questo è in plastica, questo in metallo. è evidente. il cartongesso è di un materiale tenero che ovviamente non può resistere a ciò che viene studiato per essere utilizzato sul muro. il tassello per il cartongesso infatti ha delle griffe che ci consentono di tenerlo ancorato alla superficie. siccome non deve dilatarsi, altrimenti rovinerebbe il cartongesso, si aprirà al ragno e si ancorerà. questo, diversamente invece, si dilaterebbe e rovinerebbe la struttura del cartongesso. vi faccio vedere un attimo come funziona questa pinza, come se fosse una rivettatrice, e come svolge il suo lavoro durante l'applicazione del tassello. dopodichè vi faccio vedere anche l'applicazione su una parete. allora, tirando verso dietro, si aprirà e si ancorerà. già in questo modo sarà molto intuitivo, però vi farò vedere lo stesso l'applicazione e la differenza con gli altri. allora, tirando in questo modo, come vedete, si apre. e questo ci garantisce un ancoraggio perfetto nel cartongesso, senza andare a sollecitare nulla. senza creare nessuna forza sulla struttura del cartongesso. quindi non indebolendola e garantendoci un ancoraggio perfetto. questo tipo di tassello può essere sia con vite da m5, che con vite da m4. ed è eventualmente possibile sostituirle con altri tipi di vite, che abbiano lo stesso tipo di filettatura. magari con il tipo di testa differente, tipo ad esempio ad anello, oppure aggancio eccetera. facciamo subito la prova pratica, facendo dei fori e inserendo i tasselli. uno classico per il muro e poi quello per il cartongesso. lo farò qua affiancato. quindi il primo sarà un foro da 8 mm, perché il tassello è da 8. il secondo sarà un foro da 10 mm. allora, primo problema. foro da 8, tassello da 8. bisogna forzare, come avete visto. già ha sbriciolato parte del cartongesso. questa parte poi, dato che questa parte è leggermente più sporgente, perché ha queste zigrinature che fanno presa sulla superficie. ok, in questo modo già abbiamo forzato il foro. mettiamo la prima vite. vediamo il comportamento del tassello. come vedete già si allarga. sta andando a forzare sul cartongesso. adesso inizia a ruotare, quindi sbriciolerà ulteriormente il cartongesso. tra l'altro si comprime, cosa che non deve accadere. vi faccio vedere da questa parte. ecco già in questo caso, questo tassello ha iniziato a ruotare a vuoto. una cosa che assolutamente non va bene. a maggior ragione, esisterebbe quest'altro tipo di tassello che è liscio, oppure quest'altro. quindi proviamo anche con i tasselli più piccoli, da 6 mm. ok, in questo caso ha compresso tantissimo la superficie. è il tentativo di rimuoverlo. guardate, esce dall'altra parte. sicuramente non è una cosa indicata. soprattutto se non riusciamo a dosare la forza, spacchiamo il cartongesso. il tassello ideale è assolutamente questo tipo di qua. perché una volta applicato, le griffe fanno presa sulla superficie. è necessario svitare leggermente la vite, anche se si dovesse rimuovere tutta. non accade nulla, perché il dado alla parte opposta è fissato all'interno del tassello. quindi si inserisce. a questo punto, con la rivettatrice o comunque con la pinza, si afferra. si tira. come vedete già è perfettamente bloccato e non si muove assolutamente. quindi possiamo toglierlo, mettere ciò di cui abbiamo bisogno e avvitarlo nuovamente. voi penserete, vabbè hai fatto forza. quindi il cartongesso si è rovinato. io parei meno forza. il tassello reggerebbe. ho fatto così tutta la vita. se facciamo poca forza, però il tassello non si dilata abbastanza. la vite fa davvero pochissima presa. secondo cosa dobbiamo appendere, ovviamente richiederà il suo spessore. quindi la vite non arriverebbe a fare presa. quindi svitiamola. mettiamo una vite più lunga. così avreste lo spazio per poter appendere quello che dovete appendere. il tassello sarebbe fissato tranquillamente, perché riuscirebbe a fare presa. però guardate che movimento ha. e quanto tempo può reggere una cosa di questo tipo. secondo me non è assolutamente una cosa valida. purtroppo parlo per esperienza, perché io preso alla disperazione sono arrivato al punto di avvitare direttamente le viti nel cartongesso. questo è perfettamente immobile. non si stacca assolutamente. e la stessa cosa ovviamente è possibile farla quando becchiamo, per esempio, la struttura metallica. si può inserire tranquillamente. e anche in questo caso, perfettamente fissato. adesso facciamo una prova, una simulazione di dover appendere una staffa. per questione di inquadratura, la metterò in diagonale. in questo modo abbiamo la staffa perfettamente fissata, che non si muove assolutamente. è più facile che c'è dalla struttura in cartongesso, perché si spezzi magari un pannello. ma è sicuro che la staffa è perfettamente fissata. inoltre, scarica tutta la pressione su tutta questa superficie, anziché concentrarsi su un punto. non dilata nulla e rimane perfettamente saldo alla struttura. e lo stesso sistema va benissimo anche sul legno. quindi si inserisce il tassello. allo stesso modo, le griffe, quando si dilaterà, faranno presa. e avremo il tassello fissato sul legno. ovviamente per spessori che lo consentano. infatti c'è una tabella da rispettare, che è questa. poi vi lascerò in sovraimpressione alcuni dati. però comunque, in base al tipo di tassello, al diametro e allo spessore del legno, dobbiamo adattare il tutto per ottenere un lavoro ottimale. e allora ragazzi, che ve ne sembra di questi tasselli per cartongesso e per legno? io penso che siano dei tasselli che diano un ottimo risultato. perché questo è quello che si vede dalla parte esterna, quando applicate un tassello classico. questo è quello che accade all'interno e questo è quello che rimane. si danneggia purtroppo il cartongesso. con questo sistema, come vedete, rimane perfettamente ancorato e rimane fisso nella sua sede, senza muoversi assolutamente. rimane perfettamente solido, saldo. è davvero durissimo. non ho modo di dimostrarvelo. però credetemi che questo è un tassello per cartongesso, ideale per poter appendere pensili eccetera. ovviamente non pensate di appendere in un pannello di cartongesso, un televisore o pensili da cucina, carichi soprattutto per esempio di stoviglie eccetera. perché poi quello che non reggerebbe, sarebbe l'intera struttura del pannello e possibilmente il tassello rimanerebbe ancora a suo posto. di questo tipo di tasselli, vi lascerò tutti i link giù nella descrizione e nel primo commento, per poterlo comprare, in modo da poter avere anche voi un lavoro a regola d'arte, se avete intenzione di attaccare qualcosa nei vostri pannelli in cartongesso, o se siete in procinto di creare qualcosa con una struttura in cartongesso, che richiede già da ora, di avere fissato qualcosa e essere tassellato. detto questo, spero di esservi stato utile. vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace al video, se vi è piaciuto. cliccate sulla campanella qua giù, in modo da attivare le notifiche e ricevere un email ogni volta che caricherò un nuovo video. e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. ciao da Riccardo e a presto.